Oggi è il 27 novembre e io sono triste, ammareggiato e deluso. E non dovrebbe assolutamente essere così, perché oggi è il compleanno di Gigi da Tome. E io vorrei essere con lui, lì a festeggiare, a festeggiare il fatto che ha vinto il Future Gillette Champions. Ah, no, 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 quello l'ha vinto Giovinco. Beh, ma tu Gigi, stai sereno, perché tanto, se ci pensi bene, è più giusto che l'abbia vinto lui. Il Future Gillette Champions, nel senso che in un futuro, quando lui utilizzerà per la prima volta la lametta, arrivano quelli della Gillette, tac, scatta il video e gli fanno una bella pubblicità. Tu adesso finalmente la puoi smettere di raderti tre volte al giorno solo per far vedere che sei uno sbarbatello. Per cui, niente, io consiglio a tutti di fare come me, di smettere di utilizzare le lamette per far vedere quanta gente davvero vuole bene a Gigi, ma anche se non li volete bene, voi smettete di tagliarvi, smettete di tagliarvi la barba, i baffi, fate come me. Che mazzata! Gigi, tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!